Concludiamo con lo sport, il Treviso Calcio lancia la sua Academy, la scuola calcio bianco celeste. Baby calciatori saranno seguiti da uno staff qualificato nel centro sportivo di Lancenigo. Il Treviso Calcio tiene a battesimo la sua Academy, una vera e propria scuola di calcio per giovanissimi. Un'opportunità dove far sport, socializzare e formarsi. Il quartiere generale è a Lancenigo e usufruirà anche della palestra delle scuole e della piscina. Sono già una cinquantina gli iscritti e presso gli uffici del Treviso Calcio è possibile iscriversi fin da subito. L'idea è partita l'anno scorso quando ho preso in mano questa società. L'abbiamo pensata e dimensionata col tempo in questi 12 mesi e adesso è partito di progetto. È una cosa che sicuramente porterà il Treviso sociale, il Treviso culturale, il Treviso sportivo, il Treviso del gioco, porterà il minimo minimo livello interregionale. A presiedere la FCD Treviso Academy è Ennio Filippetto, aiutato dai due vice Orietta Miotto e Giuseppe Camerin. L'obiettivo e il progetto principale è quello di dare ai ragazzi dall'anno 2000 di nascita al 2006 la possibilità di giocare a calcio divertendosi naturalmente prima di tutto. Ma spazio anche alla socializzazione con altri ragazzi e per la scelta degli allenatori attenzione è stata rivolta anche al progetto formativo. È fondamentale che gli allenatori, i preparatori siano persone qualificate e almeno siano esperti di attività psicomotorie. Naturalmente questo perché dà una qualifica e dà anche un supporto idoneo e eccezionale anche ai ragazzi stessi.